Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Oggi, children, parleremo del simple past Del simple past Ah, roba di cucina! Maestra, un attimo il presto tu vuole? Allora, bambini, io vi lascio un attimo in compagnia di Dwayne, di pratica Insegna, corregge e ascolta E lo potete scaricare pure sui vostri telefonini Arrivo subito, eh! Ma parla! Come si chiama? C'è Wayne Dwayne Pure questo parla giorgianese Mi ha chiamato, oi! Il nome mio ha detto Tony! Hello! Mi ha corretto! Mi ha corretto! Annaggiali Werthro Cristiano! Eh, come glielo spiego mo Ah, c'è Wayne E' una parolaccia Una cosa che non si può dire, capito? Una cosa che se la dice, la mamma ti sgrida E' così, bravo quella! Che ha detto? Mannaggia Li Mowerte di Lu Cristiano No, 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 no! Attenzione! C'è Wayne! Mannaggia Li Mowerte di Lu Cristiano! Cristiano! No! Cristiano! Cristiano! Mannaggia Li Mowerte di Lu Cristiano! Antonio, gli insegnare queste cose, sennò poi la maestra ci sgrida! Sorry guys! Beh, vi siete trovati bene con Dwayne? Yes! New friend! Bravo Tony, vedo che hai imparato l'inglese! Mannaggia Li Mowerte di Lu Cristiano! Ha detto Mannaggia Li Mowerte di Lu Cristiano! E io ho imparato l'inglese e lui l'italiano!